Un aumento dei patti anti-evasione con l'Agenzia delle Entrate, maggiore partecipazione e rilancio dell'Agenzia per l'affitto, tasse che rispondano a un criterio di equità sociale. Lo chiedono CGL, Cisle e Will a confronto con Sindaci, Provincia e Asla. Si è aperta infatti una nuova contrattazione territoriale che sarà portata in tutti e 48 i comuni con l'obiettivo di alimentare un fondo per le famiglie colpite dalla crisi e chiedere una valorizzazione dei presidi sanitari e sociali del territorio piacentino. L'iniziativa è stata presentata oggi nella sede della Camera del Lavoro tra sicurezza, welfare, trasporto pubblico, emergenza abitativa, tassazione e sanità. Il documento unitario con il quale le organizzazioni sindacali chiedono ai comuni e a tutti gli enti locali il confronto affronta a 360 gradi i problemi dei cittadini. Lo scorso anno erano stati sottoscritti 47 accordi su 48 comuni, è mancata la quadra con il comune capoluogo. Abbiamo la necessità di questo confronto perché il tema del fisco per esempio è un tema che è fondamentale per i lavoratori e pensionati e purtroppo il fatto che non è partita la local tax e che ancora avremo I, Mutasi, Tari e quanto sappiamo ci impone di fare un ragionamento con i comuni. Lo stesso vale per i servizi sociali, per la sanità, c'è bisogno di trovare dei metodi condivisi per avere la più ampia tutela dei soggetti più fragili.